Inizia anche oggi, abbiamo fatto un'altra lezione con il mio 18 collaboratorio, secondo te come sta andando poi ragazzi? Secondo me molto bene, i ragazzi sono veramente molto interessati, infatti hai visto oggi come si sono messi tutti insieme a fare il loro lavoro che gli abbiamo dato. Sì, sono ancora di là con lo storyboard che hanno fatto 18.000 disegni, ci hanno consumato tutte le pene, comunque li ho visti presi bene. Anche le lezioni con gli ospiti, comunque li ho visti interessati. Molto belle, anche gli ospiti si vede che usano un linguaggio molto consono ai ragazzi, i ragazzi sono veramente molto contenti, veramente molto bello e stanno anche a parlare un sacco di cose. E di parole nuove grazie al dizionario di Lorenzo Biondi che è fantastico. Bene, adesso hanno anche iniziato un pochino a lavorare sui loro cortometraggi, quindi direi che ci siamo, siamo di buon punto. Andiamo avanti. Andiamo avanti.